Ciao a tutti, lunedì 5 novembre 2018 i thrusters sono la specialetta di oggi. Infatti andremo subito a costruire un heavy set, cioè un set pesante di 5 thrusters e subito dopo l'Open 18-5, che vi ricordo è composto da 7 minuti unwrap nei quali fare 3 thrusters, 3 chest-to-bar pull-ups, 6 thrusters, 6 chest-to-bar pull-up, 9 thrusters, 9 chest-to-bar pull-up e 12 thrusters, 12 chest-to-bar pull-up. Se volete un riscaldamento lo trovate nelle storie di Instagram, pesi carichi sulla grafica. Ci vediamo domani, buon vuoto!